e siamo 200 bene grazie grazie mille grazie mille a tutti per un piccolo canale come questo dedicato diciamo quasi esclusivamente ai video da drone e alla presentazione di alcuni oggetti che di tanto in tanto mi sono comprato è veramente un trequardo incredibile è stata una cosa molto interessante partire da zero arrivare a 200 iscritti io non ho velleità di diventare uno youtuber o cose di questo genere io amo volare col drone fare filmati fare montaggi e presentarli poi tra amici ci si sente si commentano eccetera eccetera ma la cosa più importante è stare in compagnia e spero che se vi siete iscritti voi gradiate i miei video per tanti la motivazione è quella di vedere i miei video su l'urdo piuttosto che su fatima altri posti dove vado io sono cattolico sono diciamo molto convinto della mia fede e quindi anche fare questi viaggi religiosi per me è fondamentale e piacevole poter condividere i video che realizzo in quelle occasioni con gli iscritti al canale o con chi capita sul canale benissimo che altro dire nel frattempo vi faccio vedere un po di immagini dei voli soprattutto degli ultimi dell'ultimo anno dei voli dei viaggi di quello che è successo l'ultimo anno vi faccio vedere anche qualcos'altro degli anni scorsi alcune cose anche inedite e spero che il canale cresca ancora spero che voi continuate a rimanere iscritti e grazie di tutto know what it's like felt this before you don't feel right when your head feels sore but it's so fine to feel this way don't waste your time on such a sunny day and I know it's difficult to be happy when nothing goes your way and I know it seems as if there's no escape it's only for today and I know it seems as if there's no escape it's only for today but it seems as if there's no escape it's only for today and it's all right hope you will realize the sun will rise once again trust in me and you will see that it isn't too hard even with scars promise me you'll smile that you'll come round once again uh uh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.